28 posti vacanti tra i medici di base in provincia di Pavia. I dati forniti dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale riferiti allo scorso luglio sono stati evidenziati mercoledì dal consigliere regionale del PD Giuseppe Villani nel corso del dibattito sulla riforma della sanità lombarda. Numeri che si traducono in cattive esperienze vissute dai cittadini. La Lomellina negli ultimi due anni ha sofferto pesantemente della carenza di medici e pediatri. Alcuni casi stanno giungendo a risoluzione, altri rimangono aperti mentre nel frattempo si sono aggiunte nuove criticità. L'ultima in ordine di tempo è quella di Zeme, intitolare dell'ambulatorio del paese, si è assentato alla fine di ottobre. Dopo una decina di giorni è stato nominato un sostituto con incarico fino alla fine di novembre. Al momento non si sa cosa accadrà fra due settimane. A Gambolo era scattato l'allarme a luglio per la perdita di tre dei sei medici operanti in città, uno pensionato e gli altri due trasferiti. Ci sono dei sostituti temporanei, al momento disagi ridotti in attesa di una soluzione definitiva. Nessun passo in avanti invece in bassa lomellina, Pieve del Cairo, Gambarana e Suardi non hanno ancora visto la riattivazione degli ambulatori dopo pensionamento del titolare della posizione avvenuto a inizio aprile. La scorsa settimana l'assessore regionale al welfare Letizia Moratti ha inaugurato il nuovo polioambulatorio di Dorno, un'isola felice dato che nei comuni confinanti è tutta una via crucis. Garlasco ha in parte risolto con l'arrivo a giugno di un nuovo medico chiudendo un'emergenza durata oltre un anno. Dovranno invece aspettare fino al prossimo gennaio, quando entreranno in servizio due dottoresse mutuati di gropello, dallo scorso aprile alle prese con soluzioni quali sostituti temporanei e autorizzazioni allo sforamento del massimale dei medici superstiti dopo una serie di pensionamenti. Tromello invece da qualche mese senza pediatra. La professionista opera in due comuni ma ha deciso di tenere aperto un solo ambulatorio, proprio quello di Dorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.